Scendiamo intanto qua Ok qua c'è una cassa di cose Ok pistola, mitra Paschetta Qua sto metà di Borderlands invece Qua c'è un casino di roba C'è un livello proprio di E Un casino Da te forse io Oh Ma la vuoi dire prima Oddio No no Oh no Questa stronti è morta Devo farmi usare un attimo l'accello di scudo Devi usare l'accello a scudo per recuperare lo scudo L'accello a scudo? Sì quella blu Freccetta su e vedi se ce l'hai io Preso un altro fio di Troy Dai che appena impari a giocare L'importante è imparare a giocare Oh bello Uh questo è delle batterie a scudo Siringa C'è una nuova scudo Vedo gente Vieni qua c'è a chinarli Vieni qua c'è a chinarli Vieni sul tetto C'è una scala per salire Arriva arriva Sì sì va bene Sì sì va bene Quest'anno Sì sì va bene 95 Ah lo è scato Non è ancora rimasto Oh sai cosa dobbiamo fare Vieni con me Vieni con me Vieni con me Vieni con me Hostile spotted Let's explore this way Let's explore this way Sì sì va bene Sì sì va bene Scania la area che qua sotto ci riporta di nuovo la io starei in sta zona ce l'approfittiamo eh comunque sono ancora 14 squadre porca vacca ah perchè con anche il fatto che si possono rianimare non finisce molto ma in realtà siamo un po' in 60 quindi è ovvio che ci sia un modo di anche le spawn a però è difficile farsi le spawn a c'è in realtà sono 6 squadre rimaste e 14 giocatori ah ah che non l'ho letto eh si perchè c'ho il coso che parliamo brava eh si iiii Io sono pronto, io mo me ficco ca sopra e aspetto tutti i fili di troia, solo se ascolto di mazzo e comportarci il giocatore volano, non si sto a chiudere. Il pacchetto di care è venuto. Tidiasse, ma perchè ogni volta fai casino? E che cazzo? Nemico, nemico! Dove dov'è? Sto scherzando! E dove va quello? Se non ci avessi ragione perchè io era partito in quarto, vedete? Quella aggressiva. Andiamo ad aiutare quel frocio. Ah beh per forza, la safe è questa, è un tappo de culo. Buona fai. Ma io sono da dire, io lo aspettare qua. Tanto questo è un unico ingresso che possono avere. Siamo circondati da montagna e l'altro ingresso è quello la sotto. Per cui vaffanculo vengono loro da noi, non noi da noi. Dietro dietro! Puzzani! Dov'è? Nord, sud, est. Sono sotto. E' 12. Un ucciso! Un ucciso! Un ucciso! Un ucciso! Un ucciso! Un ucciso! Ma quanto sono forte, oh! Ma quanto sono forte! Ma sono il campione io di sto gioco! Ma io voglio il mondiale di sto gioco! Ma ci partecipo su... Basta! Basta, è proprio bello sto gioco, però che trovo... Cosa ho questo? Un batteria scura? Tipo... Kit medic? Un sacco di mediciana? Un sacco di mediciane! Ho minaciurlo tu! Dai la mia scuola di posizione! Mamma mia! Gli evitanti di... Oh comunque le armi... Le armi sono proprio fighe! La mia! E ci stanno! Quattro squadre rimaste e dieci giocatori Non posso entrare Ma chi è? Chi? Non posso Eh di no se uno sta giocando lo stesso Il tipo nostro però Stiamo attenti Che tra poco devono venire da noi Comunque da via Abbiamo avuto le prove che possono arrivare Sì probabilmente si è arrivato da là in fondo Sì Mi sento spari qua sopra Vieni un attimo Vieni un attimo che li intercettiamo Che devono essere per forza qua vicino Quattro avanti C'è un giochino Via 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 Uuu come manisce Torna da sopra Vai vai torna su Torna da sopra La safe sta arrivando Torna su TDS Ogni tanto mi controllo le spalle Se avrei Nemico 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 Guardate Due 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 No Eliminato Reloading 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 Questo push come lo metti il figlio di buona donna, eh? Ah, devono passare per forza Se devono passare per forza per di qua Do l'inghietta Ok, nemico sotto, nemico sotto Due, due È sotto di me, è sotto di me Ma sei un passale L'ho visto Ti piglio a pugno, stronzo E che è il campione? Già seconda vittoria Ma no, la raga, ma si è troppo Si è troppo fuori Che potenza Sette kill per me Eh, ma vado Ah, fuck are the pussy Pazzesco Ah, che bello sto gioco Pazzesco Pazzesco